Matteo siamo qua, MVP della partita, vittoria 3 a 1 su Ravenna, sei entrato nel momento più difficile della gara, eri già entrato nel primo per il servizio ma dopo l'infortunio di Manu hai saputo stare tranquillo, trovare la giusta situazione, la giusta misura, ne siete usciti da squadra, insomma una serata magica, raccontaci le tue emozioni. Come hai detto tu è frutto del lavoro di squadra perché alla fine siamo un bel gruppo unito, ci vogliamo bene, siamo tutti uniti per un unico obiettivo che è vincere ovviamente. Assolutamente, tra l'altro stasera ci siete riusciti ai vantaggi, con il pubblico tutti in piedi a lineggiare, con il cuore in gola, avremo bisogno di un cardiologo per ogni partita perché tutti i set oggi primo, secondo e quarto dei vantaggi contro un avversario molto fisico, non era facile, ecco dimostra questo che avete un'unione del gruppo anche a livello tecnico, mentale, davvero invidiabile. Lo sapevamo già, avevamo studiato che era una partita difficilissima perché loro venivano qua da un trend positivo e noi ce l'abbiamo messa tutta e adesso vediamo. Premio MVP, come festeggerai adesso? Te l'aspettavi soprattutto? Che effetto fai in una serata così speciale? Non me l'aspettavo sinceramente, ringrazio chi mi ha votato e festeggerò offrendo qualcosa a tutti. Perfetto, allora in bocca al lupo ovviamente complimenti per questa vittoria speciale e davvero grazie. Grazie a voi.